Fanuc è una multinazionale giapponese presente da tantissimi anni sul territorio di Laenate con un focus particolare sul tema dell'innovazione. Una delle sue caratteristiche principali è la formazione, una formazione continua che viene sviluppata con la collaborazione delle scuole, dell'università proprio all'interno dell'azienda per sviluppare sempre di più processi innovativi che aiutano le aziende ad eccellere su temi molto importanti e cruciali per il futuro come quello della sostenibilità. Noi siamo gli innovatori che hanno portato nell'industria nel 1956 il controllore, il primo controllore numerico per la macchina, macchina utensile. Da lì abbiamo sviluppato nella nostra tecnologia negli anni 80 nella robotica, robotica industriale e oggi siamo i primi fornitori di automazione e robotica al mondo. In Italia lavoriamo come ho detto con le costruttore macchine utensili, costruttore di macchine, legno, marmo, vetro, qualsiasi costruttore di macchina per la parte controllore numerico, per cui il cuore, il cervello della macchina. Nella parte invece di robotica lavoriamo con quelli che noi chiamiamo system integrator, per cui quelle aziende che creano linee di produzione, oggi che installano in Italia ma che esportano nel mondo. La formazione oggi è una priorità e parte della nostra strategia, soprattutto qua in Italia. Oggi formiamo ragazzi di istituti tecnici, collaboriamo con l'università, collaboriamo con docenti per formarli sulle nuove tecnologie.